risolviamo insieme questo semplice esercizio su una modulazione a sk vale a dire amplitude shift king leggiamo bene il testo dell'esercizio aiutandovi con l'applet segue un link che richiede java quindi la java virtual machine ricavate la sequenza di bit a partire dal bit 7 il livello basso di ampiezza se quello alto vale 12 volt e l'indice di modulazione vedremo che non è così difficile come sembra nel proseguo faremo riferimento solamente a questa immagine visto che qualcuno ha avuto difficoltà nell'utilizzo dell'applet a causa della difficoltà effettivamente si incontra certe volte a fare girare le applet java affrontiamo la prima delle domande e cioè la frequenza dei bit questo è facilissimo da vedere lo possiamo vedere in due modi perché intanto in basso a sinistra nella figura sono già direttamente segnati con delle caselle di spunta quindi vediamo per il bit 7 il valore 1 per il bit 6 il valore 0 0 per 5 1 per 4 il bit 3 ancora a livello alto livello basso il bit 2 alto alto quindi la sequenza è 1 0 0 1 1 0 1 1 del resto possiamo andarla a vedere anche nel il diagramma in questa prima parte in alto perché abbiamo qua il valore 1 poi ci abbiamo 0 0 1 1 1 0 1 1 che è esattamente la sequenza che abbiamo visto prima viene sembra riportata al contrario ma in realtà dobbiamo capire che se cominciamo a trasmettere il bit 7 il bit 7 si trova più avanti nel tempo rispetto agli altri bit e quindi l'andamento viene rovesciato in maniera speculare rispondiamo adesso alle altre due domande che in realtà sono praticamente una sola perché viene chiesto quanto varrebbe il livello basso se il livello alto vale 12 è molto semplice rispondere perché basta andare a guardare qua giù che è stato settato l'indice di modulazione se lavorassimo direttamente sull'applet potremmo andarlo a modificare e vedere anche come si va a modificare il diagramma del segnale modulato ma in questo caso ci accontentiamo di lavorare sulla figura statica quindi stiamo vedendo che l'indice di modulazione vale 0,5 quindi significa che l'ampiezza del livello inferiore sarà la metà del livello superiore quindi se l'ampiezza vale 12 quindi picco picco qua avremmo 24 e allora l'ampiezza questo del segnale l'ampiezza maggiore l'ampiezza minore che è questa qui quindi giustamente qua avremmo la metà di 24 che vale 12 quindi abbiamo risposto alle due domande in un colpo solo il secondo e il terzo quesito in realtà si riducono ad uno solo infatti osserviamo che l'indice di modulazione è di 0,5 è scritto direttamente qua nell'immagine quindi abbiamo poco diciamo da calcolare mentre a questo punto con quest'indice di modulazione se l'ampiezza della l'ampiezza maggiore diciamo della sk vale 12 e quindi picco picco ci abbiamo 24 volt allora sicuramente l'ampiezza minore deve valere la metà e 15 picco picco 12 l'ampiezza sarà 6 bene il problema è stato risolto grazie dell'attenzione alla prossima